Mi aspetto a una partita di carattere, bisogna dare qualcosa in più. In questo momento di emergenza, di difficoltà, bisogna fare qualcosa in più tutti quanti. Quindi mi aspetto dai ragazzi una prova di grande carattere, a sopperire a queste assenze e dare qualcosa in più per far bene. Incontriamo una squadra ben organizzata, una squadra che ha dei giocatori di qualità, hanno un'assenza importante come Sao, però hanno alternative comunque valide. E poi è una squadra fisica, una squadra anche di carattere. Ricordo all'andata, anche se non meritavamo di perdere, hanno fatto un buon'impressione. Hanno dato continuità a quello che di buono avevano fatto in C, inserendo 4-5 elementi di qualità e si stanno confermando anche in B. Torna Stoi a quello che, almeno a livello di numeri, qualche gol ha fatto in questo momento poi Adrian, ma come del resto anche gli altri, è diventato un giocatore importante, soprattutto per la finalizzazione. Ho provato anche qualcosina stamattina, però cambiare non so se è un vantaggio, anche perché poche volte abbiamo cambiato, anche se per caratteristiche potremmo variare, ma il problema è la condizione di determinati giocatori, come defendi che se cambi qualcosa potrebbe giocare e coprire tutta la fascia, ma non sta bene, quindi diventa difficile anche provare qualcosa di diverso. Questo al limite posso farlo durante la gara? Ma li sono motivati, devono essere motivati, perché noi, come ho già detto e ripeto, altre settimane bisogna fare più punti possibili. Mi dispiace che domani siamo in emergenza, per questo mi aspetto una prova di carattere, perché bisogna dare qualcosa in più, quando si è in questa situazione tutti quanti devono fare qualcosa in più per cercare di arrivare a una vittoria, a un obiettivo.